Ciao a tutti ragazzi sono Yuki e benvenuti in questo nuovo episodio tranquilli non siete voi a vedere appannato ma sono io col programmino che sto facendo il pirlo ecco qua Benvenuti in questo nuovo video ragazzi velocissimo per video vlog, video annuncio, video qualche cosa mentre bevo il caffè Questo per annunciarvi che sto per andare in live, sto per andare in live ragazzi anzi quando guarderete questo video io sarò già in live perché? Perché voglio andare in live Sono ancora raffreddato lo si vede dal naso dalla voce dagli occhi che mi ce le gonfi mi stanno bruciando radio Sono ancora raffreddato ragazzi lui mi vuole passare questo raffreddore qua c'è un via vai passa a me pieno mio figlio mio figlio me lo mischi a me me lo mischi a lui Eh me lo mischi a me non se ne va c'è ancora me lo mischi a me c'è ancora il raffreddore che me l'hanno mischiato Vabbè comunque bada le ciance togliamo tutte le bananti dalla scuola ragazzi una cosa importantissima sto per andare in live o sono già in live quando vedrai questo video Ma ci sono ben che non è un così ma è due novità una tu vuoi che mi seguite in live sapete che ultimamente sto regalando una chiave Subscribe al mio canale di hitbox ogni mille spettatori me ne sono rimaste quelle profine a fine scorta me ne sono rimaste ben 3 o 4 da parte E per cui anche oggi le darò Però aggiungo un'altra cosa intanto speriamo che hitbox in futuro me le regali delle altre da poi regalarvi anzi hashtag carlo regalaci le chiavi Eeeh che dirvi ragazzi vi dicevo appunto che stavo facendo una cosa nuova nel senso oggi ho sborsato di tasca mia qualche ventina di euro per regalarvi questo E' arrivato lo screen si vabbè l'avete visto Cos'era ragazzi sono 8 bundle che io ho comprato questa mattina fate conto che nell'interno di ogni bundle ci sono dai 6 agli 8 giochi 8 chiavi Per cui fate 8 per 6 8 per 8 quel che l'è Eeeh queste chiavi ragazzi io ve le regalerò le ho prese principalmente per voi Ogni 500 persone in live darò una chiave per cui esempio oggi venite in live siamo in 700 vi do una chiave di un gioco qualsiasi di quei bundle Eeeh siamo in 1200 vi do due giochi di chiavi più una chiave per diventare subscribe Siamo in 2004 vi do 4 chiavi per i giochi e 2 chiavi per il subscribe al mio canale e così via ragazzi Più crescete più vi regalo chiavi questo è un modo per condividerlo anche ai vostri amici per cui condividetelo chiamate i vostri amici ditelo E soprattutto quando venite in live non venite solamente per la chiave venite a seguire in live Oggi farò counter strike e poi interna serata magari non lo so un po' di di hs di airstrones Poi vedrò forse minecraft non lo so vi prometto che appena finirà questo raffreddore questo brutto raffreddore influenza Li prenderò a fare minecraft ho trovato un pacchetti nuovi fighi finirò a rifugge eccetera eccetera bla 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 e ciccacchi Novità ragazzi una novità è che voi sapete che io avevo il Note 4 anzi c'ho ancora qua il Note 4 della Samsung E lo pagai la bellezza di tanti soldi sapete quanto costo il Note 4 poi l'ho presi anche subito dopo di essere uscito eccetera eccetera Qualche mese fa no era già uscito da tanto comunque l'ho preso qualche mese fa a un prezzo abbastanza alto Lo pagai 650 euro una cosa del genere no 550 600 adesso non ricordo comunque l'ho pagato davvero tanto E me l'ha venduto un amico e ragazzi vi sapete che ultimamente mio figlio me lo fece cadere nell'acqua Lo asciugai ma non funzionava più nella telecamera della cosa per far prendere la rete alla schedina Per cui le due cose principali che fa un telefono di oggi Ragazzi mi è ritornato il Note 4 indietro perché volevo portarlo alla Samsung essendo in garanzia Però mi hanno detto che ero ossidato dentro eccetera eccetera per cui dovevo uscire comunque sia dei soldi Viene un amico a casa un amico di famiglia io sono tecnico io lo so fare te lo aggiusto io tranquillo dammi il telefono te lo riporto funzionante Mi sono fidato mi è ritornato il telefono perché il telefono mi è ritornato per l'amor di dio però mi è tornato così Cioè questo è il Note 4 che mi rimane questo Questo è il mio Note 4 ragazzi Questo Fatto sta che non volendo infatti alla fine l'ho portato perché alla fine è così Mi ha giustato un sacco di cose questa persona e me ne ha rotta una Mi sono incazzato ma amen ok Tutte le altre cose mi ha giustato comunque sia gratis non ho quasi mai pagato Me ne rompe una meno male guarda ricompensare tutte le altre cose gratis Comunque sia un amico di famiglia Poche parole mentre lo smontavo mi ha definitivamente rotto lo schermo Vedete schermo andato qua è tutto rotto Vedete Eccolo qua così si vede il radio Completamente rotto lo schermo del Note 4 Il canale di pesca che come avete visto non carico più video perché non sto più facendo video Essendovi rotto il telefono non so come registrarlo Mi è rimasta questa piccola web che mi fa i video pixelosi avete vista piccola E' la Logitech 920 ho acquistato Ho acquistato ultimamente grazie anche a chip La Logitech G930 ossia l'ultima della Logitech Che è ancora buona o nuova Guardate la carta Non mi funziona Non mi funziona perché I driver non sono compatibili Porca loggia Per cui sto registrando con una G920 Voi direte Luke Come cazzo stai facendo registrando la C920 se ce l'hai in mano Infatti che cazzo Ce l'hai in mano Ragazzi ce l'hai in mano Come cazzo Ma cazzo lo registrando Ah perché ne ho due Ne ho due Questa qua sapete di chi è? Di chip Quel peer net di chip L'ha dimenticata a casa mia Per cui ne ho due Ok Ok Fatto questo piccolo trattino Gli ho raccontato questa cosa Per mettervi qualche contenuto in più Nel video annuncio Così non è un video da un minuto Ma un video da 7 più o meno Ragazzi Un bacione e un abbraccio Vi aspetto in live Mi raccomando Vi scongiuro Spolliciate Condividete Ma soprattutto condividete Fatelo sapere i vostri amici Parenti e conoscenti Che Luke è live E che soprattutto esiste Luke è live Mi raccomando Link in descrizione Su hitbox Scritto così Hitbox Faccio vedere Faccio un paio di occhiali di hitbox Hitbox Iscrive così Ragazzi Un bacione e un abbraccio Io mi prendo il mio fazzolettino Mi pulisco il tasino E ci vediamo in live Ciao Ciao